Noi abbiamo testato con Pierpaolo il clock atomico sia registrando appunto la Mano Lescaux e la pop music e in entrambi i casi ho verificato che questa precisione determina un suono più più pulito più brillante logicamente arricchito di cose che prima venivano perdute. Andrea è rimasto estremamente curioso perché ho parlato a lui di questo nuovo congegno particolare all'inizio lui era un po' scettico come del resto a chiunque potrebbe esserlo quando senti dire che le cose vengono trasformate così abbiamo fatto alcune registrazioni molto importanti a Valencia la Manon Lescaux con Placido Domingo in veste di direttore di orchestra e abbiamo fatto e mixato il prodotto qui in studio nel PPG Studios la Turandot e sia nel processo di registrazione che di mix e di mastering abbiamo utilizzato tutte le nostre attrezzature di valore in questo caso abbiamo utilizzato anche del clock atomico è stata una grande soddisfazione per tutti riscontrare già da un primo mix alcune differenze alcuni dettagli specialmente nella Turandot nella parte dei cori dove c'è il gran coro che chiaramente ha bisogno di un certo tipo anche di gestione non semplice perché molti microfoni, molte tracce, un ambiente molto particolare abbiamo riscontrato un dettaglio, una profondità, una chiarezza che non avevamo ascoltato prima di questo e quindi lui appena ha sentito questo si è reso subito conto della grande differenza e mi ha detto Pierpaolo da ora in poi dovrai sempre utilizzare e voglio utilizzare sempre l'atomic clock appena abbiamo realizzato il primo mix della della Turandot un'opera fantastica registrata a Valencia diretta dal maestro Zubin Meta siamo andati direttamente a casa di Zubin Meta io e Andrea per far sentire il prodotto come era venuto Zubin è rimasto molto contento e decisamente ha detto che è una delle Turandotte più belle in assoluto che lui abbia mai fatto e questo per noi è stata una grande soddisfazione è stato per noi veramente una storia incredibile perché io mi trovavo qualche giorno prima di Natale ancora qui in Toscana stavo sistemando gli ultimi mix della Turandot quando mi è arrivata una telefonata dagli Stati Uniti di Andrea che mi ha detto Pierpaolo devi venire perché faremo con i produttori del nuovo album di Andrea David Foster, Roberto Gattiga e Tony Rennison faremo intanto alcune registrazioni e col fatto che Andrea non vuole perdere nulla delle sue esecuzioni mi ha detto c'è bisogno del clock atomico e nell'occasione vieni ti fai un bel giro a Miami ok tutto è andato bene ho portato dietro il mini clock dell'antelope abbiamo ricostruito appunto la catena negli studios di Miami e abbiamo fatto il nostro lavoro lo Zodium Platinum è un oggetto molto pratico sono due canali di conversione accuratissima ho notato subito la grande precisione dei convertitori devo dire che è pratico perché ha un collegamento diretto anche col computer in USB e ha molte porte di connessione interna e esterna è un apparecchio molto versatile secondo me è valido sia per il mondo di studio che anche per il mondo hi-fi e quindi di home per ascolto diciamo così a grandi livelli in un setup audiofilo diciamo non è grande quindi è trasportabilissimo e ha delle caratteristiche col fatto che ha l'ingresso per il clock atomico questo sviluppa chiaramente all'interno la miglioria appunto della stabilità Andrea è estremamente curioso come carattere specialmente quando ha a che fare con personalità che hanno un cervello importante come quello di Igor che è un genio sicuramente e detto questo penso che nella conoscenza di Andrea con Igor e Igor con Andrea ci sia stato un ottimo rapporto e quindi uno scambio di reciproca stima nel parlare di vari argomenti sia tecnici che musicali lo sai grazie a tutti 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 grazie a tutti